Buongiorno a tutti da Luke65, un video sul fumetto, un video su un cattivo andazzo che si sta prendendo nel mondo del fumetto, è già un andazzo che si sta prendendo da qualche anno, ce ne sono di vari tipi. Quindi, allora ci sono quelli che magari non leggono neanche un determinato fumetto, ma in corrispondenza di determinati numeri speciali, speciali tipo un 300, un 400, un numero con le card, un numero con una copertina speciale, eccetera, 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 delle tante americanate che io non ho mai approvato dagli americani e approvo ancora meno nel mercato italiano. Atte soltanto a, secondo me, spillare quattrini e a allontanare la gente piano piano, perché di fatto in America mi sembra che sopravvivano facendo film e non vendendo fumetti. Comunque, a monte di questo, mi piacerebbe capire qual è la cosa che spinge, o meglio, la so cosa viene, la molla che spinge a fare questo, ad accappararsi 20-30 copie di un fumetto, togliendo la disponibilità di poterlo comprare ad altri, per poi andarli a vendere su qualche piattaforma a prezzo raddoppiato o triplicato. Abbiamo capito, l'obiettivo è monetizzare. Da parte mia, io non ve ne comprei neanche una copia, non ve ne comprei neanche una copia, ve le lascerei tutte sul gobbo, così al prossimo giro la furbata non vi riesce. Ma però, purtroppo, c'è qualcuno che magari gli manca un numero, e allora investe magari 10-12 euro per comprare un numero che magari ne costava 3-4 per averlo. Alla lunga questo giochetto stuferà anche queste persone, perché questi piccoli ricatti durano per poco, quindi ci sono anche quelli che fanno poi le file nelle mostre. Una volta, i disegnatori disegnavano, e questo lo dico per certo, disegnavano anche i loro personaggi ai fan, perché compravano i loro fumetti e perché ci tenevano a tenersi i disegni. Adesso c'è anche gente che fa la fila per accappararsi dei disegni, perché poi deve venderli sempre su Google piattaforme dove riesce a venderli. Quindi, adesso non so se ancora fanno disegni, ma se fosse per me, non ne farei più uno, invece sono sicuro che qualcuno gentile, ancora, fa disegni a pseudo fan, perché poi qualcuno è fan realmente, a pseudo fan che poi li vanno a vendere per cercare di guadagnare, per cercare di guadagnare. Ormai si cerca di guadagnare su qualsiasi cosa, magari facendo ore di fila, portando via magari un disegno a uno che è veramente un fan di quel disegnatore. E questo andazzo non fa che distruggere piano piano il mondo, secondo me distruggerà piano piano il mondo del fumetto, disamorando quelli che come me sono cresciuti dagli anni 70 con i fumetti, dove non c'erano copertine speciali, copertine quadrupe, le tirature limitate, farlocche, che poi non esistono perché ne esce un'altra, perché poi dobbiamo parlarne. Le case editrici ormai hanno preso un andazzo di un aumento di prezzi che è completamente fuori mercato. Cioè forse in un'altra galassia sono. Quindi ce n'è qualcuna che li ha aumentati e sono andati fuori, ce ne sono altre addirittura che sono addirittura fuori controllo, fuori controllo totale, al punto che in determinate case editrici di cui compravo tutto, non compro più nulla, perché io a questo giochetto non gioco. Quindi o mi dai un prodotto che vale la cifra, o se mi dai lo stesso prodotto di prima, triplicato, te lo tieni, ne venderai 10 copie, ci guadagnerai di più, probabilmente se lo vedevi a un terzo, lo vendevi a 50 persone, allargavi il campo dei lettori, che è quello, il numero che è interessante, l'interessante è allargare il campo, non restringerlo a un'elite, ma comunque evidentemente deve essere ristretto il campo, o qualcuno pensa che questa sia la logica. Quindi evviva gli aumenti di prezzi, allargherete sicuramente il fandom, bravissimi a quelli che si comprano 30 copie di un fumetto, e bravissimi a quelli che fanno ore e ore di fila alle mosse per farsi fare un disegno da un disegnatore che magari non sanno neanche chi è, per vendere poi un qualcosa su una piattaforma e ottenere qualche soldo, perché qualcuno, giustamente, prima o poi ci casca e compra. Il fumetto grida, ed è un grido d'allarme, purtroppo nessuno ascolta, e alla fine vedremo cosa succederà, credo niente di buono. Un saluto da Liuk65.